Eccoci qua puntuali come sempre nella solita fascia oraria per la striscia quotidiana Care teste di CAS vacciniste vicine e lontane dove naturalmente, lo sottolineo sempre, CAS fa rima con PAS Care teste di CAS vacciniste vicine e lontane 29esimo episodio della serie storica Settembre 2020, subito ai dati L'11, il giorno 11, era un venerdì e avevamo 175 persone in terapia intensiva 175 Non si era vaccinato nulla naturalmente, lo diciamo sempre Ma anche questo va sottolineato, le vaccinazioni non c'erano, i vaccini non c'erano Si iniziò a vaccinare, come sapete, dal 27 dicembre 2020 Sabato 11, oggi le terapie intensive sono 547 Soltanto meno uno rispetto a ieri, 547 Quindi, ripetiamo, da 175 a 547 Le proporzioni come di consueto le fate voi Ma 547 è molto di più di 175 Ma ancora più significativo, se possibile direi che, e non è la prima volta che accade È il numero dei decessi Che nel settembre 2020, il venerdì 11, furono 10, come il giorno precedente Del resto, 10, quindi esattamente una decina 10 E che oggi sono invece ben 57 57, quindi sono quasi 6 volte E' interessante notare che Che vedete, nonostante 57 decessi Che sono quasi tutti, arriveranno naturalmente dalle terapie intensive Però le terapie intensive diminuiscono di una sola unità Fanno soltanto meno uno, passando appunto da 548 di ieri a 547 di oggi Qualche dato in più, se vi interessa Ieri erano 37 i nuovi ingressi in terapia intensiva E oggi sono 40 Io seguo tutto e devo dire che ci sono appunto sempre O quasi sempre, naturalmente, una quarantina di persone Che entrano al giorno in terapia intensiva All'inizio di settembre, nella prima decada e ancora comunque Di settembre non è poco Visto che si è vaccinato ormai praticamente Almeno il 74% delle persone con doppia dose E visto che naturalmente stiamo parlando sempre solo di settembre Va sottolineato quando le temperature sono ancora ottimali Quando le scuole sono chiuse Quando viviamo ancora in buona parte e in buona misura all'aperto Il regime dice che vamos bien e quindi vamos bien I dati in realtà mostrano un'altra situazione Ogni giorno questi raffronti lo dimostrano Vi ricordo che seguendo anche quanto successe effettivamente Lo scorso anno I decessi iniziarono a aumentare sensibilmente Poi soltanto a ottobre E vediamo se anche quest'anno avremo la stessa tempistica o meno Vi ringrazio per l'attenzione Vamos bien I vaccini funzionicchiano Come dice Galli Perché funzionicchiano Non funzionano ma funzionicchiano Voi un'auto che funzionicchia non la prendereste I vaccini invece secondo loro dovreste prenderli Anche se funzionicchiano e quindi non funzionano Grazie e alla prossima videopillolina